Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, siamo al pagellone della serie A 2017-2018, si è conclusa ieri, quindi vai con le danze, vi spiego brevemente, partirò dall'ultima squadra a cui darò un voto, dall'ultima fino ad arrivare alla prima, darò un voto e ovviamente la motivazione del voto. Cominciamo subito col Benevento, voto 5,5. Non si può dare la sufficienza per una squadra che è retrocessa, ma comunque va fatto i complimenti a Benevento e infatti il 5,5 è dovuto alla forza e soprattutto all'onore di aver combattuto fino alla fine nonostante la retrocessione fosse praticamente cosa addirittura già matematica in certe partite, ma hanno dato veramente l'anima, per cui un 5,5 a mio avviso è il risultato giusto per il Benevento. Elas Verona, voto 4. Pesano tantissimo sull'Elas Verona le scelte scriteriate, soprattutto di aver tenuto un allenatore che non ha mai avuto il pallino della squadra in pugno. Una squadra che era venuto a cambiare allenatore troppo tempo fa, non l'ha fatto e paga le conseguenze con una retrocessione meritata e, come posso dire, voluta dalla società che non ha esonerato Pecchia quando era da esonerare. Crotone, voto 5. Voto 5 perché è partito male e poi a un certo punto sembrava addirittura già quasi salvo. E' buttato via nelle ultime settimane, il Crotone poteva tranquillamente gestire meglio le ultime giornate. Il Cagliari aveva un calendario nettamente peggio dell'oro, ma alla fine il Cagliari si è salvato e l'oro no. Quindi 5 tutta la vita. Spal, voto 7. Con un organico inferiore probabilmente a tutte tranne a Benevento riesce a salvarsi e restare in A dunque per il secondo anno di fila. Solo da far complimenti a Mister Semplici e a tutti i ragazzi perché questo è veramente un grande, grande risultato. Cagliari, voto 5.5. 5.5 perché è vero si è salvata ma non era partita per salvarsi. Quindi assolutamente 5.5 credo che sia giusto perché comunque era una squadra che come detto non era partita per salvarsi. Bologna, voto 6. Classico del Bologna, una squadra che si salva e poi tireremo in barca. Quindi squadra da 6 tutti gli anni. Ecco, bisogna dargli merito a Donadoni di avere una squadra che da 6, che fa il suo e poi... Udinese, 5.5. Stesso identico motivo del Cagliari. Squadra che non era partita per salvarsi ma che si è salvata solo all'ultima giornata. Così come il Chievo-Verona. Voto 5, addirittura a mezzo voto in meno perché addirittura veramente in questo momento che il Chievo era addirittura nel match scorso retrocesso. Quindi attenzione, ha rischiato tantissimo per questo mezzo voto in meno. Genoa, 6. Partito male ma poi si è stabilizzato e col cambio allenatore ha ottenuto una salvezza tranquilla che gli ha portato alla fine, insomma la stagione abbastanza tranquilla. Sassuolo, 6. 6 perché alla fine è riuscito a salvarsi con un po' di tranquillità ma ha rischiato anche lei. Quindi non può essere più del 6. Attenzione quindi per come si stava mettendo alla fine il 6 credo che sia per il miglioramento che ha avuto nelle ultime settimane. E comunque ha pareggiato ad esempio anche con Napoli, ha battuto l'Inter. Diciamo che i risultati non ottenuti. Sampdoria, voto 5,5. Due squadre insieme al Torino, Torino 5,5 entrambe, due squadre che erano partite col sogno Europa ma che alla fine si sono trovate a dover lottare per nulla ed essere fuori da tutto. Per me hanno fallito una buona fetta degli obiettivi, quindi 5,5 per tutte e due. Fiorentina, 8. 8 perché era partita male, era una squadra che è partita male l'agosto quando il mercato gli ha rinfondato la squadra. Alla fine ottiene lo stesso risultato che ha avuto l'anno scorso ma con quello che hanno passato, soprattutto dopo, con il famoso Udinese e Fiorentina, era difficile solo pensare di tornare a giocare a pallone. Complimenti a tutti Pioli in primis. Atalanta, voto 8 con l'Europa League. Era difficile pensare ad un Atalanta ancora in zona Europa. L'Atalanta si qualifica ancora per l'Europa League. Ci saranno tantissimi preliminari, sarà difficile per l'Atalanta l'anno prossimo, ma intanto dopo aver fatto un ottimo Europa League, l'Atalanta va ancora in Europa League. Con l'organico che ha è da 8. Milan, 4. E ragazzi, Milan si qualifica per l'Europa League, ma io ho, ci sono delle testimonianze, come posso dire, di inizio anno dove si parlava di un Milan da scudetto. Menzione però, dividiamo il voto in due. 4 con Montella, 6 con Gattuso, perché 6 e mezzo con Gattuso. Gattuso è riuscito a dare gioco e dare una buona interpretazione al Milan. Quindi, il Milan di Montella è 4, il Milan di Gattuso è 6 e mezzo. Il totale della stagione do 4, perché comunque alla fine il Milan va in Europa League. Ma attenzione, con la consapevolezza che se ci fosse stato Gattuso, probabilmente Milan avrebbe potuto lottare un po' di più. Magari non si sarebbe qualificato alla Champions, ma avrebbe avuto più chance di qualificarsi. Lazio, 5,5. È vero, non aveva l'organico per puntare la Champions, ma quando tu hai tutti questi match point e li fallisci, mi dispiace, la tua stagione è insufficiente. E hanno tutti colpa, in Zag and Prince. Inter, voto 6. Voi dicete, l'Inter si è qualificato in Champions dopo 6 anni? Sì, ma con l'organico dell'Inter e quello che è stato speso all'inizio, credo che sei, sia il voto migliore, insomma. Il voto giusto, l'Inter ha fatto il suo, il quarto posto credo che fosse il minimo. Roma, voto 8, non tanto solo per il campionato, ma quanto per la stagione intera della Roma. Una Roma che ha sbagliato il mercato, a parte Under, non è che abbia fatto questo gran mercato, ha trovato in allison sicuramente un valido portiere, ma alla fine arriva terza, sale sul podio della Serie A per il quarto anno consecutivo e va in semifinale di Coppa Campione. Una cosa che in questi ultimi, dal 2010, era uscita soltanto la Juventus. Quindi, complimenti a Di Francesco, complimenti alla Roma, credo che il voto sia meritatissimo. Napoli, 4 e mezzo. E adesso vi spiego perché. Sicuramente la squadra che fa 91 punti in campionato dovrà ottenere la sufficienza piena, ma una squadra come il Napoli, che ha puntato tutto sul campionato e il campionato lo doveva vincere. Con la rosa che aveva doveva puntare perlomeno all'Europa League e alla Coppa Italia, le ha snobbate, le ha trattate da schifo, le ha giocate come se stesse giocando a Birramoretti e per questo doveva 4 e mezzo al Napoli. Dovesse dare un voto sul campionato del Napoli, darei 7. Ma alla fine, compreso la stagione, devo dargli per forza 4 e mezzo. Juventus, 8. Ragazzi, Juventus campione d'Italia e campione di Coppa Italia per il quarto anno di fila. 95 punti alla fine in campionato, direi che c'è poco da dire, questa squadra era più forte. L'ha vinta ancora per il settimo anno consecutivo. C'è solo da alzarsi in piedi e fare i complimenti a questi ragazzi che non hanno più perso un colpo. ragazzi, questo è solo il mio pagellone della Serie A, ovviamente vi invito come sempre a commentare e darvi un vostro parere, se mi piace sempre discutere di calcio con tutti voi e quindi io vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito anche per questa altra stagione da youtuber. E niente ragazzi, io vi ringrazio infinitamente e vi do appuntamento con i prossimi video perché ricordatevi, la Serie A chiuso, il canale però va avanti tutta l'estate. Ciao!